3 giugno 2023 22 23 lo facciamo per il prossimo anno vabbè ok che ne sai se poi non ci sono il prossimo anno i funghi ma che c'è là c'è un bastone magico c'è un bastone con dei rossini e qua c'è altro altro bello qua e più su il salento salento guarda qua benedetto li vogliamo dedicare a qualcuno e a chi li vogliamo dedicare ma lui vediamo dici tu io per esempio lo dedicherei a questo qua comba ciccio bianco fiore si ok a ciccio si e questa comba domenica a domenico si o no si come ogni anno abbiamo dedicato i funghi o a ciccio a domenica domenica ok va benissimo e li vogliamo cavare pure certo vado io queste le lasciamo e da queste cosa rilasciano copriamo ok capiamo questo non mi sembra buono no no è troppo bianco ma cavato quelli li vogliamo fare pure questo eh sì sono attaccati eh si francesco a posto e la dedica l'abbiamo fatta siamo a posto ce ne possiamo anche andare per oggi abbiamo finito a francesco bianco fiore questo qua quello stavo dicendo francesco per questo e per te si va bene ma l'abbiamo detto ok però se lo diciamo di nuovo non va niente francesco è sempre per te sempre per te comba ciccio comba ciccio ok